Presentato oggi il progetto di integrazione fra la Casa di Riposo Umberto I e la Casa di Riposo Comunale Casa Serena, finalizzata alla realizzazione di interventi a favore degli ospiti prevalentemente non autosufficienti delle due strutture. Il progetto prevede una gestione coordinata dei servizi di trasporto, dietetico, terapeutico, animazione ed amministrativo. Il Presidente della Casa Umberto I, Miria Coan. Con la convenzione approvata in questi giorni dall'amministrazione comunale e dalla Casa di Riposo Umberto I, continua il percorso che abbiamo iniziato a dicembre dello scorso anno di integrazione dei servizi tra le due case di riposo. Speriamo che questo percorso continui e si integri sempre meglio, sino ad arrivare al più presto ad un'unica azienda per i servizi alla persona tra Casa Serena e Umberto I. L'assessore comunale alle politiche sociali, Vincenzo Romor, ha illustrato le finalità, gli obiettivi, i tempi di realizzazione del progetto e i risparmi. Entro la fine dell'anno la presentazione dello studio di fattibilità per l'unione delle due case di riposo e poi ci sarà una progettazione reale e concreta per l'unione delle due case di riposo in un'azienda per i servizi alla persona dedicata a questo e forse anche allargata ad altri servizi. Sicuramente in questi sette mesi abbiamo ottenuto non solo un aumento delle prestazioni di servizio ma anche un risparmio di 30.000 euro rispetto a quello che si sarebbe fatto se non avessimo attuato questa nuova azione di sinergia. Grazie. Grazie. Grazie.